Prima volta da Grigento e mi sono trovata benissimo, sono stata accolta super bene in questa meravigliosa struttura. Francesco veramente mi ha fatto sentire a casa, mi ha coccolato, anzi ci ha coccolato. Peraltro ieri con la super guida di suo fratello siamo andati anche alla Valle dei Templi, abbiamo visto la Scala dei Turchi, insomma abbiamo apprezzato un po' anche le prelibatezze locali, mangiato in qualche posticino, insomma diciamo che non ci possiamo... Il teatro vi permette anche di girare per le bellezze dello stivale? Tra le tante meraviglie, tanti regali che ci dà il teatro, questa è una delle tante insomma, perché ne parlavamo proprio ieri anche con gli altri colleghi, è veramente un bel lavoro, siamo fortunati insomma, ma no, perché si lavora la sera e di giorno puoi andare in giro a scoprire le bellezze, visitare l'Italia, che di solito poi quando si viaggia, io viaggio, ho viaggiato molto almeno prima del Covid, quando si viaggia si tende sempre ad andare lontano, no? Ma questo funziona un po' in tutte le cose e non si guarda mai vicino alle cose belle che ci sono, si cercano, chissà perché si pensa sempre che le cose belle stiano più lontano e quindi Agrigento, ad esempio, è uno di quei posti che ancora non avevo visitato. A differenza del mio amico Nini Salerno che si sente un rumore tipo di gatto. Vieni tu, c'è Nini qua? Aspetta, se non sei il microfonato, ma guarda. Ti sto vicino, mi sentite? Lo sentite? Vai. Poi la cosa è molto piacevole, è vero, per me possiamo stare qui anche un paio di giorni, un paio di giorni. Io avesse con Agrigento un rapporto antico, perché sono stato tante volte, ho avuto il produttore Francesco Bellomo di Agrigento, tanti amici agrigentini per cui conosco Agrigento come le mie tasche e l'apprezzo sempre molto. E devo dire che ieri, grazie alla signora Badale, ho fatto il giro della Valle dei Tempi che non avevo una volta... Ah, è vero! E lo spettacolo, parliamo di questa esperienza in teatro. Colpa mia? È un po' colpa sua. Per quanto la riguarda è colpa mia? No. Allora, mi ha cercato il produttore Gianluca Ramazzotti e quando ho chiesto chi c'era nel cast, tra i vari nomi, è venuto fuori quello di Nini Salerno, che io conoscevo ormai da tanto tempo, perché abbiamo avuto un trascorso, un passato in comune, a Buona Domenica. Esatto. E ci eravamo trovati bene, devo dire. Direi di sì, perché già... Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Quindi ho chiamato Nini e ho detto, senti, mi è stata proposta questa cosa, Nini, dimmi la verità. Ma, secondo te, riuscirò a farlo? E lui, non lo so, se è un po' con un po' di incoscienza o per... No, no, conoscendoti, sapendo che tu sei una donna curiosa e che giustamente guardi avanti, ho pensato che fosse il caso che tu ci provassi, insomma, cosa che... Ed eccomi qua. È riuscita pienamente. È riuscita pienamente? Ma sì, dai. No, ma aspetta, rifacciamo. Nonostante il fatto che noi siamo bellissimi, insomma, che sono un po' ultimamente decaduta, però... Però invece devo dire che ce l'ha fatta, alla fine, devo dire, ha fatto la sua ottima figura. Davvero? Ma sì, lo sai. No, devo dire che sono stata molto aiutata da un cast decisamente di professionisti capaci e talentuosi, infatti. C'è una grande complicità tra di noi, questa è una grande fortuna nel teatro, perché noi siamo dieci attori in scena, no? E quindi è una compagnia... Ecco, parlateci un po' di questo spettacolo, sono trent'anni che ha successo. Io non ero nata trent'anni fa. Nonostante le rivisitazioni continuano a riempire teatri e ad avere successo, perché? Perché è divertente prima di tutto. È uno spettacolo divertente e semplice, diciamo, nell'impatto con il pubblico, perché si tratta di una comicità proprio immediata. Il pubblico entra in questo vortice, in questa bolla, più o meno lentamente, nel senso che c'è un pubblico più scaltro, più disponibile, uno che ci mette magari qualche minuto in più, però una volta entrato in questo vortice derivicante non si ferma più.